Amici di TechDifferent, eccoci qui con una prova di videoregistrazione dell'Umia 435, facciamo una panoramica, ricordo che la fotocamera non è di quella eccezionale ovviamente paragonata al dispositivo, non si può neanche fare lo zoom, però per il prezzo che paghiamo questo dispositivo direi che può andare per le riprese. Direi che per questa prova è tutto, un saluto, alla prossima!